Nuovo puntamento con l'informazione regionale. Mercoledì 7 settembre al Mise, alle 15, il Ministro Giancarlo Giorgetti presiderà il tavolo Barzi, dal quale saranno convocati aziende, da parti sociali e Friuli Venezia Giulia. Il nuovo incontro punterà a trovare una soluzione dopo l'annuncio da parte dell'azienda di voler chiudere l'impianto di Trieste e di licenziare 450 persone. Per i sindacati era importante che l'incontro al Mise avvenisse prima del 14 settembre, quando saranno passati due mesi dall'annuncio della procedura, perché dopo l'azienda ha un solo obbligo verso il sindacato a discutere di incentivi di cassa integrazione. Noi invece vogliamo parlare di lavoro e prospettive industriali e comunicare la data della convocazione ministeriale. È stata la Regione, nel corso di un incontro, svoltosi con i rappresentanti sindacali e le RSU. Attacco hacker al Comune di Gorizia, il sistema informatico va in tilt. Per riavere i dati contenuti nel sistema informatico del Comune dovrete pagare seguendo le istruzioni contenute nel messaggio. In caso contrario i dati saranno pubblicati online e quindi visibili a tutti. Sembra un film, ma è un messaggio reale trovato sul server dai tecnici del Comune di Gorizia che stavano indagando sul blackout informatico che aveva misteriosamente colpito lente nella notte fra domenica 28 e lunedì 29 agosto. Trieste, poco dopo le ore 11 di questa mattina, un anziano è stato investito all'incrocio tra via Roma e via Torre Bianca. Si tratta di un uomo e non di una donna, come riferito in un primo momento, di 83 anni. Alla guida della Honda c'era un uomo di 76. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica. L'uomo che ha riportato un trauma cranico è stato trasportato all'ospedale di Catinara dove è tenuto sotto osservazione. Una giovane di 21 anni è stata investita sulle strisce pedonali da un'automobilista che si è dato alla fuga. L'episodio è avvenuto verso le 15.30 all'incrocio tra via Candler e via Giulia a Trieste. La giovane studentessa era appena scesa dall'autobus e stava attraversando le strisce pedonali quando una Citroen C3 di colore blu l'ha investita. La persona la guida, secondo quanto riferito da un testimone presente sulla scena, è sentito dalla polizia locale, è proseguito in direzione San Giovanni. Si è fermato solo un attimo alla rotonda di piazza dei volontari Giuliani, ma poi è ripartito. La ragazza è stata trasportata all'ospedale di Catinara dei sanitari del 118 presenti sulla scena con ambulanza e automedica. Il sostegno della regione alla manifestazione, altri due di carattere scientifico che si svolgeranno nelle prossime settimane a Trieste, è motivato dalla convinzione che il territorio abbia una consolidata vocazione e improntata alla ricerca. Perciò nell'ultimo assestamento di bilancio sono state stanziate significative risorse per attirare aziende in virtù anche dell'alta concentrazione di realtà scientifiche nell'area giuliana. È il concetto espresso a Trieste dall'assessore regionale agli enti locali nel corso della presentazione di Maker Fire Trieste. Due giorni, sabato 3 e domenica 4 settembre, di festa dell'ingegno, creatività, scienza e tecnologia in piazza dell'Unità d'Italia, presenti tra gli altri il sindaco e il vice sindaco di Trieste e oltre ad altri rappresentanti della giunta comunale. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata di domani. Cielo da nuvoloso in montagna variabile sulle altre zone con più sole lungo la costa, probabili rovesce temporali possibili già dalla notte alternati a fasi di tempo migliore. Previsioni a cura di ARPA FWG Meteo.